L'argomento è particolarmente affascinante, ma affascinante è anche l'argomento di adesso perché, visto l'orario, siamo vicini al rendimento del nostro stomaco e c'è Matteo Angilieri al telefono. Buongiorno Matteo. Buongiorno a voi. Allora, parliamo di gusto, questo nostro mercato sulla cultura alimentare che ci sarà proprio da queste parti. Saremo a Moncalieri, vero? Saremo a Moncalieri, 22-23 di maggio. Cosa succederà? Succederà che questo, diciamo, è l'acronimo di Genova. Succederà che questo, diciamo, è l'acronimo di Genova, è l'acronimo di Genova, è l'acronimo di Genova, è l'acronimo di Genova. Succederà che questo, diciamo, è l'acronimo di Genova, è l'acronimo di Genova, è l'acronimo di Genova, è l'acronimo di Genova. Succederà che questo, diciamo, è l'acronimo di Genova.